La Federazione Autonoma a Bancari Italiani interviene a poche ore di distanza dall'ufficialità della proroga concessa per la cessione delle Good Bank. La Fabi pone l'attenzione non solo sulle proposte di acquisto, quanto sul futuro dei lavoratori degli istituti di credito. Per la vendita di nuova bancheture delle altre tre banche e ponte, la scadenza del 30 settembre è stata superata con un rinvio, si legge nella nota inviata da Fabi. Si prosegue con i concreti interessi di UbiBanca. Un gruppo con più di 1500 filiali, spiega Fabi, nei confronti di tre delle quattro banche con Cari Ferrara che potrebbe prendere una strada diversa. Ubi avrebbe già predisposto una proposta di acquisto che dovrà però superare il severesame della Banca Centrale Europea con tre nodi da sciogliere, la gestione delle sofferenze, la certezza sui crediti fiscali e l'aumento di capitale. È sempre più evidente la centralità delle decisioni comunitarie. Secondo Fabi però sembra passata in secondo piano la questione occupazionale legata ai posti lavoro e la futura mobilità, questione peraltro già affrontata da Rezzo, da banche e sindacati, ancora prima del famigerato 22 novembre 2015 con il prepensionamento di 400 dipendenti. Quando si parla di nuova banca Etruria in realtà si parla del gruppo Etruria, spiega Fabi, che comprende Etruria Informatica, la società di Information Technology con sede in via Calamandrei di Banca Federico Del Vecchio, la piccola, storica e prestigiosa banca fiorentina, sede del Wealth Management e poi il Polo per la gestione professionale del risparmio per tutto il gruppo Etruria, delle società controllate BAP e Oro Italia Trading. Società queste con le proprie specifiche mission aziendali e con personale qualificato. Tutti i lavoratori, conclude Fabi, con pari dignità e che meritano pari attenzioni.